Innanzitutto, questa è stata una settimana un po' particolare che dopo la partita di beneficenza che abbiamo fatto a Latina ci è costata qualcosa dal punto di vista degli infortuni, perché ieri e anche oggi Alper per esempio non si è allenato per un'accaduta che aveva fatto sul piede, per un problema al piede, e Gaines non si è allenato ieri e vediamo oggi se, cosa mai dopo, se avete bisogno di, ma io poi direte se Gaines si allenerà o no, insomma questo c'è un pochettino ha un po' infastidito quello che è la routine del lavoro in vista di questa partita che ovviamente diventano partite che sono sempre più importanti a me piacerebbe, mi auguro che i giocatori capiscano il momento importante e che quindi veramente facciano leva su quello che ora dovrebbe essere l'aspetto legato all'orgoglio personale, alla personalità di ognuno di loro alla forza di trovare una reazione che tutti chiaramente vogliamo e ci aspettiamo perché insomma ci sono dieci partite davanti quindi un terzo di stagione che non è poco e bisogna che i giocatori capiscano che se c'è un secchio di latte lo ribalto e il latte va sparso per terra poi non riesco più a rimetterlo dentro e quindi è un peccato restare col secchio vuoto allora bisognerebbe che ognuno di loro facesse leva anche su quelle che sono le componenti individuali che qualche volta sfiorano l'egoismo ma che sono quelle che poi fanno arrivare degli atleti ad un livello molto alto come sono loro quindi su questa base qua se loro ci mettono questo aspetto di motivazione di ripeto di amor proprio che come dire dovrebbe essere alla base per la ricerca del risultato poi sul campo perché ovviamente allora poi possiamo come dire dire la nostra cercare di cambiare questo trend che non fa piacere a nessuno assolutamente e che ci sta danneggiando parecchio insomma andiamo sicuramente ad affrontare una squadra di altissimo livello per il campionato e questo deve esserci la stimolo ulteriore una squadra un club che ha sia voglio dire proiettata sia nel presente che nel futuro perché chiaramente sia per la composizione della squadra e per quelli che sono la strategia loro come club è uno dei posti dove c'è un progetto importante e quindi questo significa che hanno giocatori sia di esperienza importante come insomma voi chiaramente conoscete molto bene da Diner a Caucenas da Vrinovi Cinciarini e anche talento come dire che si sta esprimendo mano a mano Della Valle Polonaramo insomma tutta rostra è abbastanza ricco da questo punto di vista qua è una squadra che gioca con con energia e quindi una squadra che va affrontata anche da questo punto di vista mettendo in campo molta altrettanta energia e molta attenzione e anche determinazione perché determinazione perché chiaramente ogni possesso deve essere giocato con grandissima come dire efficacia e con grande aggressività in primis mentale sia offensiva che difensiva ognuno dei suoi problemi questa settimana abbiamo avuto anche noi quindi quantomeno faremo almeno pari no non so hanno un roster abbastanza lungo quindi hanno avuto in passato già qualche infortunio sostituzioni temporanee o meno insomma non credo che sia quello il il quid non penso sarà quello il quid della il noccio della partita bisognava chiedere ai giocatori come mai qualche volta non si riesce a perché quando poi io dico che si allenano mediamente una squadra che si allena abbastanza bene e che però poi in partita onestamente produce poco evidentemente perché come siamo messi effettivamente è un pochino è così e però insomma ripeto se se poi uno si allena bene perché in questo momento come dovrebbe essere la frustrazione di non di essere in un periodo di risultati negativi così ci deve deve essere quello che ti spinge alla rovescia insomma a mettere in campo no qualche cosa di più perché evidentemente quello che quello che fai non è o non è abbastanza insomma non ha pagato e quindi bisogna che sia ci sia questo tipo di di atteggiamento di incazzatura come dire no usando un termine un po' forse banale però insomma io vorrei che loro provassero quello che provo anche io come dire durante tutti i giorni e la domenica che perché così forse sarei sicuro che magari quando vanno in campo avrebbero come dire il cipiglio l'atteggiamento giusto per provare a invertire il trend ecco beh loro spingono sicuramente abbastanza il Vito è una squadra che segna tanto una squadra che si può correre e gioca un alto numero di possessi sicuramente riuscire ad essere abbastanza scatti da capire quando noi possiamo fare ugualmente da questo punto di vista bene rispetto all'efficacia delle cose che facciamo oppure quando appunto invece fermare per non farsi magari per non andare noi come dire sotto ritmo rispetto a quello che poi diventa partita ecco perché dicevo che ci vuole anche molta determinazione e attenzione nei possessi perché chiaramente sciupare possessi con loro significa sicuramente essere puniti e quindi dovremmo avere molta attenzione del pallone che stiamo giocando io spero di sì oggi dovrebbe cominciare a provare a muoversi perché poi appunto mercoledì giocando è caduto male insomma sul piede e poi e quindi insomma ha dovuto star fermo si sta facendo le terapie lui anche Gaines anche questa mattina ieri mattina faranno fino alla partenza speriamo mi auguro domani almeno riesco ad allenarsi sostanza è difficile sicuramente dirlo a priori sicuramente siccome siamo un po' noi causa di noi stessi come dire quindi chiaro che adesso in casa vuole dire visto l'ultima partita o anche qualche altra uscita precedente insomma il pubblico come dire un po' sta più addosso ma è anche abbastanza comprensibile onestamente quindi può darsi che fuori casa magari uno senta un po' meno questo però posso dire dopo la partita diciamo per rispondere meglio sicuramente è un aspetto su cui dobbiamo fare dobbiamo fare meglio dove molto spesso ci manca anche solo la la scaltrezza di capire la situazione invece per quel che riguarda il fuoricampo come dire sinceramente mi sentirei di non dire niente in questo momento perché non è oggi e venerdì quello che ci interessa è la partita di domenica poi il resto preferisco non dire niente su quello che così è vago come dire insomma non è stando al dato insomma ai dati oggettivi è che domenica avremo questo roster qua e questo roster qua comunque perché può farlo fino a Natale l'aveva anche abbastanza fatto deve fare qualcosa di più di più